È il periodo dei carichi pesanti dove si mette benzina nelle gambe per affrontare la stagione. Sappiamo che comunque il nostro deve essere un campionato importante, quindi è qui che si costruisce la base della nostra stagione. Quindi ci sta magari ad essere un po' più pesanti adesso per poi sprigionare tutte le nostre caratteristiche. È la parte fondamentale secondo me, l'amalgama procede bene. Sicuramente siamo tanti nuovi quindi ci vuole un po' di tempo, perché magari non abbiamo troppo tempo, bisogna diventare squadra più presto possibile. È un gruppo formato da 30 bravi ragazzi e non sarà difficile. Hai detto 17 nuovi, bisogna trovare immediatamente questa unità di squadra. Sì, sì, ma è l'obiettivo di tutti, perché comunque tutti sappiamo che ci giochiamo qualcosa di importante sia per la nostra catena sia per tutto. Quindi ognuno di noi viene al campo ogni giorno per migliorare, cercare di diventare il più presto possibile squadra e per raggiungere l'obiettivo importante. Il mister non lo devo presentare io sicuramente, non ho bisogno di presentazioni, è un allenatore esperto, è un allenatore vincenti per la categoria, quindi lui sa quello che fa e noi abbiamo solo l'obbligo e il piacere di seguirlo. No, personalmente come tutti i miei compagni nuovi non vediamo l'ora, comunque di abbracciare tutti i tifosi il presto possibile. Il mio inserimento procede bene, perché la maggior parte li avevo incontrati già da avversario, qualcuno magari aveva anche giocato, però procede tutto benissimo. L'importante adesso è, come ripeto, mettere benzina a minuti nelle gambe, perché sarà un campionato difficile, io è il dodicesimo anno che faccio questo campionato, so come tutti i miei compagni che ci aspetteranno su tutti i campi. Dobbiamo noi guadagnare il ruolo di essere una squadra importante, non ci aspetta di diritto assolutamente, quindi bisogna correre più degli avversari per poi far preparare le nostre qualità. Il messaggio è che non vediamo veramente l'ora di abbracciarli tutti allo stadio, però adesso ci stanno facendo capire comunque di che pasta sono fatti, perché anche il giorno lavorativo venendo qui in tanti fa comunque piacere. Noi li aspettiamo e cerchiamo solo di rendere orgogliosi noi. Noi li aspettiamo e cerchiamo solo di rendere orgogliosi noi.